Musica Bentrovati telespettatori di TV6 L'appuntamento con le previsioni meteorologiche per giovedì 3 novembre Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa vasta perturbazione in discesa dal nord Europa avvicinarsi ai territori italiani ed apportare un peggioramento delle condizioni meteorologiche Nel dettaglio al mattino sull'Abruzzo i cieli si presenteranno coperti o nuvolosi su gran parte del territorio regionale Tuttavia dalla tarda mattinata deboli precipitazioni potranno andare ad interessare in particolar modo l'Alto Terramano Nel corso del pomeriggio un peggioramento più deciso delle condizioni meteorologiche coinvolgerà tutto il territorio regionale con deboli piogge e rovesci che si concentreranno in particolar modo lungo la fascia costiera e collinare La ventilazione inoltre si disporrà dai quadranti settentrionali Nel corso della sera inoltre assisteremo ad un primo miglioramento delle condizioni meteorologiche con le piogge che andranno ad interessare esclusivamente il basso pescarese ed il chietino mentre sui restanti territori risulterà più stabile Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento